Ciao, la soluzione che ti propongo oggi è un appartamento in paderno d'adda di pregio e di grandi dimensioni, disposto su due livelli con due box doppi e due cantine. Dai, andiamo a vederlo! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!